Inizia prima di tutto? Hai già fatto il casino? No, non lo so, vai, scusa, vai. Sonia. Roberto, ma mi chiamano Toto. Architetto. Io faccio un po' l'insegnante, un po' l'ingegnere. Quando siamo stati in Ghana per lavoro, avevamo fatto una cosa simile perché ci interessavano bolle mani, come gesticolavano gli africani, era una cosa interessante. Allora quando Catarina si è parlato di questo progetto mi ha detto, boh, partecipiamo, era una cosa simile a quella che abbiamo pensato noi. Quando appunto stavamo in Ghana, mi piaceva un sacco il modo che avevano di gesticolare i taxisti o quelli che sono dei taxisti. Tu capisci se il taxista è libero, occupato, se può prenderti su o se fa viaggi brevi o lunghi solo dalle mani, non si fermava neanche. In generale è buona, è una bella forma per parlare, le mani sono fondamentali. Più appunto, più vai verso il sud del mondo, più con le mani il concetto lo capisci già soltanto dalle mani. Che domanda! Io ho disegnato le sue mani per la mia tesi di laurea. A me, quelle di mia nonna che mi piacevano tantissimo, quando cucinava mi ricordo che erano proprio le mani, sai, della casalinga, una bolletana che facevano a mangiare, erano tutt'uno con la situazione, non so come dire, erano perfette per quella situazione. Io le sue, mi sono innamorata prima delle sue mani che di lui. Sapevi? No. Mi sono un calciatore ancora, voglio diventare come Ballottelli da grande. È il sogno della mia vita. Questo qua è il mio sogno, ho 35 anni per cui forse non lo diventerò mai, ormai sono arrivato a uno stadio tale che non posso più diventare un giocatore di calcio professionista. Però continua a rimanere il mio sogno. E lì, qualcosa che ne so, deve restare organizzato, qualcosa di organizzato. Fare la DJ? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.